Noi ci siamo sforzati, credo ormai da quattro anni almeno, nel far comprendere che il marchio italiano, l'impresa italiana, l'incredibile diffusione del marchio italiano non si regge se non si impasta anche di lingue e di cultura. Per la prima volta negli ultimi quattro anni noi siamo riusciti insieme a mettere in una stessa prospettiva e una stessa strategia istituzioni, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Università e della Cerca Scientifica, la Dante Alighieri che è nata prima di tutti noi in quest'opera ed è nata su basi volontarie di autonomia e di iniziativa anche spinta dalle comunità italiane all'estero. La diciannovesima settimana della lingua italiana del mondo, diciannovesima edizione, la nostra rete è mobilitata, oltre mille eventi in oltre cento paesi, ma non solo la nostra rete, tutti i partner che con noi concorrono a questa missione e siamo molto contenti, oggi la presentiamo qui a Roma, ma altrettanto faremo in tutte le nostre sedi di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura.